Salve a tutti ragazzi, aspettate che questa entrata è un po' flop per evitare bombe Ciao ragazzi, bentornati su MaxiTV Oggi apriamo due bustine Match Attacks Champions League ragazzi Allora, noi abbiamo una con custodia di Nemo Kiev e Santicasorla, se non sbaglio, questo è l'arsenale la famosa, il famoso artwork che non trovavo mai vabbè, l'avevamo già salvata, possiamo già spacchettere tutto e questa qua con CR7 e Sterling Allora, poi abbiamo ho già aperto una bustina e vi faccio vedere il contenuto non l'ho trovato a calzellografiche ma l'abbiamo trovato finalmente una dell'Olimpia Costa aspettate, lo metto indietro così ve lo faccio vedere per ottimo ok abbiamo trovato Jardel Arush Spoinsteiger, anche lui ottimo Carvalho e Raffaello Alcantara e Klocua Fortunis finalmente ho un giocatore di ogni squadra della Champions insomma, questa apertura andiamo alla ricerca delle Ligite Dash qua c'è stato aperto Gessa paruta cara paruta De Bruyne ottimo questo giocatore ottimo ottimo poi abbiamo Bujalski e doppia rara raga è doppia rara è doppia rara ok, abbiamo un un centrocampista della del McAby Tel Aviv è un attaccante del allora poi abbiamo Kurzawa Kurzawa Jotun, ora lo finisco il malmo attacodice di Imbula Imbula, Imbula guardiamo prima l'attaccante so passare, Kisling sei meraviglioso Kisling, Kisling Kisling, Kisling e ole uomo partita Savi Savi erano Savi era al se non sbaglio questo giocatore era al non si chiama al Palermo si era lui sto sperando di trovare una lingua dei sceni ormai si è svanita apriamo wow, uno è alla Roma Strootman, Strootman eccolo qua ok, di nuovo doppia rara raga ma che apertura è bellissima abbiamo Strootman Bellandà raga però stai doppia rara che è uno del Barça un attaccante della della Dinamo della Zagabra e un centrocampista della Dinamo Kif cioè allora abbiamo Bartrae del Barça è come detto sto finando già ne ho trovato uno e non vengono tutti Tobiasana del Malmo è l'aperto codice di Sandy Casorla allora l'abbiamo su questa no dai è la prima doppia lografica ve lo non so sicuramente uomo partita ah no il duo Marco P.H. e Angela Riegas due attacco 37,63 ok ragazzi lasciate un bel like ci vediamo al prossimo video ciao raga ciao a tutti